Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati ad un nuovo episodio di SEMrush risponde, io sono Chiara Clemente, online event manager di SEMrush Italia e lo so, siamo stati in pausa per tanto, però siamo stati in pausa perché ve li lascio qui in descrizione abbiamo creato 5 nuovi video tutorial di SEMrush per spiegarvi tutti i toolkit e quindi c'è stato da fare, vi assicuro ma adesso torniamo alle nostre solite mansioni e rispondiamo alle vostre domande di webmarketing allora oggi parliamo di contenuti, lo so, l'abbiamo già fatto, però oggi ne parliamo in una maniera un po' strana, un po' contorta e un po' diversa sappiamo già che cosa dobbiamo fare per creare contenuti che piacciono a Google, vi lascio il link qui sotto al video di SEMrush risponde che abbiamo fatto qualche mese fa però voi siete sicuri di scrivere, vi faccio una domanda un po' diretta, un po' così voi siete sicuri di scrivere cose rilevanti per il vostro pubblico? siete sicuri che il vostro sito non sia pieno di cose magari non pertinenti rispetto all'argomento principale rispetto alle query di ricerca che poi portano gli utenti al vostro dominio? perché questa è una domanda che spesso purtroppo non ci si pone oppure se ci si pone non si sa mai come rispondere perché non c'è uno strumento che ti dice guarda stai andando un po' off topic, capito? quindi forse dovresti tornare ma oggi vi farò vedere quattro diversi strumenti di SEMrush con un workflow un po' così però che vi tira fuori delle informazioni veramente eccezionali partiremo da che cosa? partiremo dall'analizzare il nostro sito rispetto a quello dei competitor chiaramente in termini di contenuti e poi dopo aver controllato i nostri competitor analizzare quali sono i contenuti che vanno meglio, che vanno peggio per quale motivo, quale engagement per esempio social ricevono e poi andremo a controllare tramite il nostro topic research e tramite il nostro gap di keyword se ci sono delle keyword che stiamo perdendo di vista oppure delle keyword che dovremmo lasciar perdere perché non abbiamo tra virgolette speranza a riguardo e quindi ora ci buttiamo come al solito nello strumento e analizziamo appunto questi quattro strumenti di che cosa parliamo oggi? di content analyzer, di social media tracker di gap di keyword e di topic research quattro strumenti che utilizzati in combinazione perché questa è la forza di SEMRAS non si utilizza solo uno strumento per fare una cosa ne si può utilizzare quattro anche non correlati tra loro ma che però in un'ottica, in una logica, in un certo modo possono tirare veramente fuori delle informazioni che proprio... cari amici ben ritrovati sul mio computer oggi la schermata iniziale è un po' particolare perché è la nostra schermata della sezione progetti che la trovate qui dove appunto c'è scritto progetti sotto tutti gli strumenti oggi utilizzeremo come esempio il dominio di Dario Vignali e direi di partire subito con il primo step del nostro workflow cioè il content analyzer ce l'ho già aperto qui allora il content analyzer come vi dicevo soprattutto nella sezione post tracking va ad analizzare i vostri contenuti come vanno diciamo sia sotto il punto di vista social delle condivisioni sia sotto il punto di vista in generale della reach quindi quante persone riesce a raggiungere quanti backlink sono presenti al suo interno quante keywords all'interno appunto di quel contenuto vengono posizionate nelle prime 100 posizioni di Google qui però abbiamo già fatto un passino in più perché in SEMRush possono essere aggiunti i gruppi i gruppi che cosa vuol dire? vuol dire che io vado ad aggiungere per esempio il gruppo, che ne so Instagram vado a creare il gruppo cosa vado a fare? vado ad aggiungere qui le URL degli articoli che mi interessano degli articoli dei miei competitor che parlano dello stesso argomento vado ad aggiungerli qui e appunto potrò vedere poi come prima come in questo caso di aumentare follower quali sono i contenuti che funzionano meglio e quelli che funzionano peggio questo a che cosa mi serve? io conoscendo già i miei competitor riconoscendo già l'argomento che mi interessa di cui voglio trattare posso andare a vedere come va il mio contenuto rispetto a quello dei competitor se va meglio, se va peggio se va così, così, eccetera, eccetera una volta fatto questo che è il primo step quello relativo ai contenuti per capire se c'è dell'interesse rispetto a quello che sto scrivendo vado poi a spostarmi nella parte social media nella parte social media io qui nel social media tracker di SEMRush posso andare ad analizzare i miei competitor e analizzare le loro performance sui social media rispetto alle mie e qui appunto io posso vedere quali sono i miei post che hanno maggior engagement qual è l'engagement rate quante reazioni ci sono quante condivisioni ci sono e capire di che cosa parlano questi post se c'è una corrispondenza tra quello che faccio sui miei social e quello che promuovo sul mio sito, sul mio blog e la stessa cosa chiaramente la posso fare per i miei competitor che vado a selezionare appunto da questa tendina e questo era diciamo il secondo step passando allo step successivo apriamo il nostro strumento gap di keyword gap di keyword ci consente di fare che cosa? di andare a controllare quali sono le keyword in comune oppure uniche tra questi due domini qui stiamo andando a controllare per quali keyword Ninja Marketing performa meglio e si trova quindi per esempio in prima o seconda posizione la prima che vediamo è aumentare i like su facebook Dario Vignali è in sedicesima posizione mentre Ninja Marketing è in prima oppure Business Funnel Business Storytelling vediamo tutte che sono posizioni molto indietro rispetto a Ninja Marketing che sta appunto in prima posizione per questi keyword cosa vado a fare quindi? capisco che io questo argomento o l'ho trattato male o va aggiornato oppure lo devo iniziare a trattare e che cosa faccio quindi? vado nel topic research di SEMRush ci attacco qui aumentare i like su facebook e ricevo delle idee topic research che cosa fa? va a scansionare il web trovando i titoli le risorse i contenuti più cercati rispetto appunto alle keyword che ho inserito e aggiungendo anche quali sono le domande più ricercate degli utenti sempre rispetto a questi argomenti ed ecco qui che cosa riceviamo riceviamo delle cards all'interno delle quali apriamone una all'interno delle quali vediamo qui i primi dieci titoli diciamo per risonanza per argomento e qui le domande aumentare fan di facebook qui per esempio aumenta engagement e like su facebook con SEMRush per esempio è una risorsa che so che mi interessa che so che è una fonte affidabile di informazioni allora io me la salvo tra i favoriti e qui ci sono delle domande domande che so che gli utenti hanno fatto relativamente a questo argomento e che io posso utilizzare per diciamo plasmare un contenuto assolutamente ad hoc come faccio ad ottenere like su facebook un buon programma di autoposter il miglior servizio perché molte persone comprano seguaci finti insomma in generale delle domande appunto che noi sappiamo interessano agli utenti e qui si conclude diciamo il nostro quarto step quindi questo era diciamo il workflow che volevo un po' farvi vedere per farvi capire quando e soprattutto come e soprattutto se state andando magari un po' fuori tracciato e se dovete ritornare diciamo alla casa base in questo modo io spero veramente che analizzando i vostri contenuti rispetto ai competitor rispetto ai loro social media e andando ad analizzare argomento per argomento con le fonti relative appunto a quello che ci interessa se possiamo capire appunto come stiamo lavorando se stiamo lavorando bene se c'è qualcosa da migliorare o se c'è qualcosa da eliminare o da aggiungere io mi auguro come sempre che questo video vi sia stato il più utile possibile se avete delle domande delle osservazioni o qualsiasi altra cosa ce li potete lasciare qui nei commenti o sui nostri social sempre con l'hashtag Semra ci risponde e noi ci vediamo la settimana prossima ciao